Rimanete tutti dove siete! Te lo chiederò una volta sola. Ma voi chi siete? Noi siamo gli Avengers, amico. Se Thanos... prenderà tutte e sei le gemme dell'infinito, l'intero universo sarebbe a rischio. Uccideva persone di pianeta in pianeta. Un massacro dopo l'altro. Schioccando le dita, così. Non ho mai combattuto contro di me. Sì, invece. Però mai due volte. E avrò un nuovo martello. Battelo con i controfiocchi. I bombe! I bombe! I bombe! I bombe! Lui verrà da noi. Allora dico meglio combattere da lui. I bombe! Sì, sono tornato. Ce l'ho fatta, sì! A proposito, lui è un mio amico, albero. Io sono Groot! Io sono Steve Rogers. Bingo! E vai! Ma insieme possiamo uccidere Thanos. Dov'è il fusto? Mi fai fare brutta figura con gli stregoni. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!